Prego, venga con me ad asciugarsi. Posso favorirle qualcosa? Un caffè? Un tè? Un pasticcino? Buonasera signorina, americana, benvenuta nel nostro atelier, sa qui abbiamo le stoffe migliori, ci prenderemo cura di lei, vedrà. Il nostro è un lavoro sartoriale di lunga tradizione, di lunga tradizione. Buonasera signorina, americana, buonasera signorina, benvenuta nel nostro atelier, posso favorirle qualcosa? Un caffè? Un tè? Un pasticcino? 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 Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. , Grazie a tutti. , , , , , , , ,... ,... ,... , ,... ,... ,... ,...